Rabiot sembra essere destinato a lasciare la Juventus che sta aspettando un'offerta ufficiale dal Manchester United per il giocatore francese. The Athletic UK. Nelle prossime ore la Juventus si aspetta la risposta definitiva da parte di Di Maria. Gli agenti hanno fatto passare segnali di apertura e si respira ottimismo. La risposta potrebbe arrivare in giornata. Fabiana della Valle. Il sì di Di Maria dovrebbe arrivare questa settimana. L'ottimismo c'è. Offerta Juve 7 milioni per un anno. La Juventus è in attesa della scelta del giocatore. Non ci sarà altro. Il giocatore deve scegliere se sì o no da fronte Di Maria l'apertura c'è. Su Coulibaly ho raccolto solo una smentita che non dà alcuna speranza ma è una notizia raccolta molto tempo fa. Giovanni Albanese. La famiglia di Angel Di Maria non è contraria al trasferimento a Torino, ma vorrebbe il ritorno in Argentina. La Juventus non ha mai chiamato Rabiot per il rinnovo del contratto. Il Chelsea è una destinazione che piace a Rabiot. La prima offerta del Chelsea è di circa 14 milioni di euro. La Juventus chiederebbe sui 20 barra 25 milioni di euro. Rabiot ha già un accordo con il Blues. Si attendono altre offerte. Luca Momblano. Neymar è stato offerto alla Juventus e ad altre squadre nel famoso incontro Campos Allegri. Mendes ha offerto Ronaldo alla Juventus per un clamoroso ritorno. Luca Momblano. La Juventus chiede una base di 25 milioni di euro per cedere il rabiotitolare della nazionale francese. Ha ricevuto un'offerta di 14 milioni di euro dal parte del Chelsea e sta aspettando un rilancio. United interessato. Luca Momblano. Morata sta aspettando la Juve, ma per la Juve le priorità sono altre. La Juve sta aspettando in questi giorni il sì definitivo di Angel Di Maria così settimana prossima potrà fare le visite mediche sia per Di Maria sia per Pogba. Alla Juve piace Odogge, ma l'Udinese non vuole venderlo. È stato offerto a Emerson Palmieri. Alexandro per la Juve è un problema dato che non ha mercato e ha solamente un anno di contratto a 6 milioni più bonus. Più facile esca Pellegrini. Nicolò Schira. Il Lecce ha chiuso l'accordo con la Juve per il prestito. Con diritto di riscatto e controriscatto di Gianluca Frabotta, l'esterno è atteso nei prossimi giorni per le visite mediche e la firma sul contratto. Sport Mediaset. Carlos Teves è il nuovo allenatore del Rosario e chiamerà Di Maria per portare il giocatore direttamente in Argentina. Nulla è impossibile, vorrei che venisse a chi non piacerebbe. Queste le parole del nuovo allenatore. Zaniolo rifiuterà il rinnovo con la Roma. Anche Coulibaly rifiuterà il prolungamento con il Napoli. La Juventus è sul giocatore senegalese. Momblano Juventibus. Di Maria ha accettato la Juventus. Nicola Balice. Gli ultimi dettagli per Massimo Brambilla sono stati definiti. Guiderà l'Under-23 della Juventus, Romeo Agresti. Domani giornata di Pogba, incontro per sistemare i dettagli. Verrà definito se il contratto sarà 3 più 1 o 4 anni. Pogba a Torino tra il 5 e l'8 luglio per visite e presentazione. Gianluca Di Marzio. La Juventus lavora per uno scambio con il PSG tra Kine Paredes. Club come il Chelsea stanno facendo pressione alla Juventus per D-Lite. Alfredo Pedullà. La Juve aspetta una risposta da Di Maria che è in vacanza a Ibiza con Paredes e lo Celso. Stretta finale Di Maria oggi non ha ancora dato una risposta alla Juventus. L'intero centrocampo è cedibile, tranne Locatelli, Fabiana della Valle. Il Monza ha chiesto alla Juventus il prestito di Miretti. La Juventus ha rifiutato la proposta per il giocatore. Nicolò Schira. Mandragora difficilmente andrà al Torino. Ad oggi sembra essere destinato alla Fiorentina. Giovanni Albanese. Aggiornamento su The Light. I bianconeri vogliono il rinnovo, ma stanno aspettando un segnale da parte del giocatore. Se non arriva il segnale, il giocatore potrebbe essere messo sul mercato già nell'immediato. Situazione da monitorare con attenzione. La Juventus non ha ancora chiuso per Cambiasso. Ma oggi ha fatto un bel scatto. Nelle prossime ore ci sarà un nuovo contatto tra la Juventus e l'entourage di Mandragora. Chi offrirà di più tra il Torino e la Fiorentina si prenderà il giocatore. La Salernitana ha in programma in queste ore un incontro con la Juventus per parlare di a che piazza. Romeo Agresti. Di Maria Saltato, la Juve ha scelto di non prendere il giocatore argentino, Giovanni Albanese-Gazzetta dello Sport. In zona Juventus si inizia ad annusare che il Chelsea possa iniziare a fare sul serio per Mattigis The Light. Dall'incontro di ieri con la Pimenta non sono arrivati segnali positivi sul rinnovo. Il Chelsea potrebbe affondare presto per il giocatore. Mandragora vicinissimo alla Fiorentina mancano solamente gli ultimi dettagli. Romeo Agresti. L'incontro di mercato con Raffaella Pimenta ha segnato l'ultimo passo avanti verso l'ufficialità del contratto della durata di quattro anni con cui il Polpo Bari tornerà in bianco-nero. Le visite e la presentazione in grande stile sono previste nella settimana del raduno. Fabiana della Valle. Aggiornamento di Maria. Il giocatore, al momento, non vuole dare risposte e prende altro tempo per decidere il suo futuro. Romeo Agresti. Angel Di Maria ha parlato per la prima volta di Juventus. La Juve è il club più grande d'Italia. Una delle squadre interessate a me. Al momento sto riflettendo, ma mi concentro sulle vacanze e la famiglia. Ha successivamente parlato anche di Barcellona aggiungendo, è una delle migliori squadre al mondo. Ci ho sempre giocato contro nei momenti in cui era fortissima. È un club dove mi sarebbe piaciuto giocare. Dall'entourage di Angel Di Maria filtra un certo ottimismo in ottica Juventus. La trattativa potrebbe concludersi in pochi giorni. Non è chiusa la pista che porterebbe il giocatore argentino a Torino anche se Di Maria avrebbe chiesto altro tempo per dare la sua risposta definitiva. Sport Mediaset. Neymar non molto felice delle parole rilasciate dal presidente del PSG sta pensando di cambiare squadra durante il prossimo mercato. Anche il club sta riflettendo su una eventuale separazione. Juventus e Chelsea stanno monitorando la situazione del giocatore brasiliano. RMC Sports. Di Maria si sblocca. Juventus e il giocatore stanno trattando gli ultimi dettagli. Fabiana della Valle. Contatti positivi con Angel Di Maria. Gli ultimi contatti tra le parti sono stati positivi, per il momento. Però, non risultano ancora accordi per la chiusura. Di Marzio.